Maria Luisa Di Polito, delegato regionale per il FAI, una serata per premiare chi si è distinto ad esempio in ambito culturale. Come sono state fatte le scelte e perché questa serata? Intanto questa è una serata che ormai è diventata una tradizione. Per Natale ci ritroviamo con gli amici per poter dare a personaggi locali che si siano particolarmente distinti come vengono scelti. Il direttivo della delegazione di Foggia, ormai io sono fuori dal direttivo perché sono nel regionale, si riunisce e sulla base delle varie proposte molto democraticamente si cerca di selezionare nelle varie arti in modo da avere una rappresentatività di espressioni artistiche diverse. Nico Palatella, delegato provinciale per il FAI, una serata per premiare chi si è distinto, l'abbiamo già sentito dalle parole del delegato regionale. Chi sarà premiato questa sera? Tre amici perché tutti gli anni poi tra l'altro il bello di queste serate è trovarsi tre amici e in effetti questi sono amici che poi come diciamo spesso incrociamo in eventi, spettacoli, conferenze stampa, convegni, ma poi non c'è mai la possibilità non solo di salutarsi e scambiare due parole, ma anche di riconoscere che queste persone che fanno parte della nostra provincia hanno spesso, quasi sempre una valenza di carattere nazionale e internazionale. Stasera premiamo Dionisio Morlacco, lucerino, quindi credo quanto mai appropriato uno storico che sappiamo aver scritto praticamente di tutto su Lucera e non solo. Il professor Davide Leccese, dirigente scolastico, componente del nucleo di valutazione del conservatore di Foggia, componente della commissione regionale per l'orientamento dei dirigenti scolastici, è una persona ingambissima, fantastica, come Rosa Ricciotti, soprano, che la cui voce è già il suo biglietto da vista, ma che è un curriculum lungo dieci pagine, sono quelle famose serate in cui si uniscono due cose, sicuramente lo spirito associativo che contraddistingue il FAI e la fondazione, ma anche il riconoscimento a chi ha dato tantissimo e ancora da tanto alla collettività in ambito culturale. Quando si parla del FAI non si può non parlare di cultura e ovviamente di cultura si parla grazie a Davide Leccese che è stato per parecchi anni dirigente scolastico, quindi l'importanza non solo di operare nel FAI ma di promuovere la cultura nelle giovani generazioni. Sì, io dico che bisogna ritornare alla scuola, alla scuola che fa della natura, dei rapporti dell'uomo con il bello, come un dato etico, educare al rispetto. Purtroppo devo anche denunciare che la scuola si sta imbarbarendo sulla teoria, invece di dedicarsi a questo rapporto che è la cura della natura, è la cura dei rapporti umani e questo sentirsi parte vive e responsabile dovrebbe essere riacquisito dall'educazione. Un ruolo importante lo svolgete anche voi come sistema della notizia e dell'informazione. I ragazzi sono affascinati dalla tecnologia del visivo, se dietro l'immagine ci mettiamo i contenuti, anche voi della stampa svolgete un ruolo importante. Se io ho fatto qualcosa per che passi questo messaggio etico del rapporto uomo-natura, sono contento perché ho lasciato un messaggio alle nuove generazioni. Rosa Ricciotti, che è un soprano riconosciuto ormai a livello nazionale, verrà dato questa sera un riconoscimento dal FAI. Come nasce la sua carriera e come nasce la sua collaborazione col FAI? La mia carriera nasce ormai quasi 30 anni fa, quando ho iniziato gli studi presso il conservatorio, l'allora appena aperta sessione di Rodi Garganico. Però il mio obiettivo era quello di fare la grande carriera, quindi ben presto mi sono trasferita a Roma, ho cominciato a vincere i primi concorsi, il debutto e così è andata avanti. Da 10 anni nel conservatorio dove ho iniziato, ho mosso i miei primi passi, sono diventata docente, quindi il mio lavoro in ambito culturale è quello di valorizzare i giovani di questo territorio, facendo con loro il miglior lavoro possibile per aiutarli a venire fuori. Devo dire che ci sono dei bellissimi risultati, sono già diversi giovani che hanno iniziato una bella carriera e che si stanno facendo apprezzare a livello nazionale e questo per me è un grande orgoglio. Il FAI, io ho sempre avuto molta attenzione per il territorio, per le bellezze del territorio e probabilmente questo è stato il legame. In realtà mi è arrivato a sorpresa, quindi è stata una cosa graditissima, anche perché pensavo fosse passato inosservato il fatto che quando sceglievo le location per le attività culturali cercavo sempre di valorizzare l'ambiente, di valorizzare le bellezze architettoniche e quindi forse ecco questa sarà stata la motivazione e sono onorata e orgogliosa di questo ovviamente. Noi saremo veloci per liberare, grazie. Vuoi dire qualcosa del FAI? Continuate a seguirci, il FAI continua ad andare avanti, continuate a seguirci, noi chiediamo su di voi. Facciamogli un applauso, veramente credetemi, non mancano mai. Allora, visto che sgrosseremo la buona parte della parte iniziale conferendo i premi, così poi nel frattempo servono e ci fermiamo un attimo, ci tenevo a dire due dettagli importanti. In questa serata manca... Grazie. Grazie.